25 e 26 maggio, ci troviamo qui nella Motor Valley per la seconda tappa del King Drift Italy dove i piloti sono pronti a scatenarsi con le loro drittate nell'arena dell'autodromo di Modena. Già nel primo round di Castelletto i piloti hanno davvero dato spettacolo. Sembra proprio che la prima tappa abbia aperto la strada alla disciplina del drifting. Pensando che è veramente gremito di film e a colpo d'occhio sono anche tutti belli ordinati. Sarà la presenza delle telecamere? No dai, scherzo! Questa disciplina è molto tecnica. Infatti inizieremo a darvi informazioni più dettagliate, oltre alle notizie sulle gare. Chiederemo ai piloti qualche informazione in più riguardo alle gomme e lo sterzio che sono due aspetti fondamentali di questa disciplina. Non aspettatevi però che ci raccontino i loro truppi segreti. Fair play sì, ma fino ad un certo punto. Primo classificato e vincitore del round 2 del Drift King Italy, Alberto Pana! Applausi! Applausi! Grazie a tutti.